Allora, Anonimo chiede Come si approccia una hostess, promoter o una ragazza immagine? Per via del loro lavoro una foto te la concedono, ma come distinguersi dalla massa? Allora, una hostess, promoter o una ragazza immagine? Allora, se intendi in discoteca, lì non ti posso rispondere perché io non mi occupo della parte della discoteca. Allora, se intendi in eventi, tipo le fiere o queste cose qua, o magari, sì, nelle fiere fondamentalmente, se intendi in questi tipi di eventi dove loro lavorano, allora, ti permetto che comunque non è una cosa che io faccio. Per comunque, uno, le probabilità di riuscire sono molto basse. Due, vivo a cinque minuti con la metro dal Duomo di Milano, quindi che cazzo vado nei eventi? Vado qua in Duomo e ci sono un sacco di ragazze che vanno in giro per strada in Duomo. Quindi, non è una cosa che comunque io faccio, però si può fare, due volte gli studenti io lo faccio fare durante i corsi, più che altro non alle hostess, promoter così, perché comunque non è che si trovano in giro in Duomo, però magari ha delle commesse che lavorano in negozi. Questo tipo di ragazze qua, le hostess, eccetera, puoi approcciarle, però mettici, diciamo, una precalibrazione. Quindi, come spiegavo prima, cioè se lei è lì che sta lavorando, magari deve gestire dei clienti, magari sta dando dei volantini, se non ci sono altri suoi colleghi nei paraggi, puoi approcciarla, diciamo, abbastanza facilmente. Se però ci sono comunque dei colleghi nei paraggi, devi comunque... Innanzitutto non puoi stare troppo tempo, perché se sta lavorando non puoi stare troppo tempo. Magari rischi anche di metterla nei guai con magari il capo o dei colleghi di lavoro che sono superiori a lei, a livello di scala gerarchica del lavoro, quindi puoi approcciarla magari dicendone, ciao, guarda, so che stai lavorando, quindi non puoi darmi troppa retta, però ti ho vista mentre passavo, mi sembravi carina, eccetera. Quindi, il concetto della fase di apertura è lo stesso. Ci metti una precalibrazione quando serve, quindi se la ragazza sta lavorando, vai lì, dici, ciao, scuola, so che stai lavorando, quindi non puoi darmi troppa retta, troppo retta, però ti ho vista mentre passavi qua, mi sembravi carina, eccetera. Quindi mettici una precalibrazione, ci parli un po' quanto riesci a parlarci a seconda delle circostanze, quindi se ci sono altri colleghi, se è da sola, eccetera, quindi quella dipende dalle circostanze esterne, e se ci sono colleghi di lavoro nei paraggi, lasciale il tuo numero, non prendere il suo, perché potresti appunto metterla nei guai, magari ci sono colleghi o c'è il suo capo, quindi magari ti scrivi su un foglio di carta il tuo numero, quindi lo devi preparare prima, e gli lasci il tuo numero, quindi in maniera anche abbastanza discreta, quindi ripeto, se ci sono i suoi colleghi nei paraggi, se eccetera, ok? Quindi se non c'è nessuno, magari puoi anche prendere il suo numero, però comunque stai attento in base a chi c'è lì con lei in quel momento. Un'altra cosa che puoi fare, che ti distinguerebbe abbastanza dalla massa, che diceva che però è un trucchetto in realtà, che però io ho usato in passato e funziona, quindi ve lo posso riproporre, accendi il registratore vocale del telefono, quindi cerca comunque di non farti sgamare, e le dici, guarda, so che stai lavorando, quindi non puoi darmi il tuo numero perché i tuoi colleghi magari ti giudicherebbero, magari ti mettono nei guai, quindi facciamo così, dimmi il tuo numero a voce, se me lo ricordo bene ti scrivo, se non me lo ricordo pazienza. Quindi usate proprio questa frase qua, e chiaramente non è che te lo ricordi a memoria, cioè se hai fatto magari corsi di memoria per ricordartelo a memoria, bene, ma comunque te lo registri con il registratore vocale, poi dopo, quando sei in un momento più tranquillo, ti riascolti l'audio e ti segni il suo numero e le scrivi. So che sembra una stronzata, eccetera, però funziona. Lo facevo in passato, ma perché lo facevo in passato? Non è che lo facevo così volutamente, perché delle volte mi registro gli audio, cioè proprio vado in giro con il microfono attaccato per registrarmi le interazioni, per poi mirare, eccetera, e magari delle volte, siccome avevo già il microfono attaccato, lo facevo, quindi dicevo alla ragazza dimmi il tuo numero, se me lo ricordo a memoria, bene, se no pazienza. E funziona, ho fatto tre appuntamenti con questa cosa qua, quindi funziona. Quindi poi come distinguersi? Sicuramente con queste cose che ti ho già detto, però ti puoi distinguere anche con la frase di apertura, approcciandola chiaramente in maniera diretta, ma relazionabile. Quindi, perché? Perché la maggior parte delle ragazze così fighe, che magari stanno negli eventi, nelle fiere, così, vengono, non è che vengono approcciate veramente, vengono più che altro importunate. Cioè, magari qualcuno gli fa il commento, oh che figa, o magari qualcuno gli fa qualche battuta inopportuna, ma non è un vero approccio, è magari una battuta inopportuna. O magari vengono solo approcciate per farsi una foto. Se tu l'approcci in una maniera in cui ti ho descritto prima, quindi mettendoci una pre-calibrazione, facendo poi l'opener diretto, ciao guarda, so che stai lavorando qui, non puoi darmi troppo retta, però ti ho vista mentre passavo e eccetera. In questo modo, facendo un approccio diretto e relazionabile, hai già più possibilità di ottenere un risultato, piuttosto che essere balzato. Però, come sempre, magari vieni balzato comunque, quindi non lo puoi sapere, finché non lo fai non puoi saperlo. Poi chiaramente, se lo provi con un numero sufficiente di ragazze, ci saranno alcune ragazze che ti balzeranno subito, ci saranno alcune che ti daranno un po' retta, ci saranno alcune di cui riuscirai a prendere il contatto e magari le rivedi anche, ok?